Il settore perduto di oggi si chiama Giardini Exolus 2A Si trova nello spartiacqua sul cosmodromo E vi darà la possibilità di ottenere delle gambe esotiche Vi ricordo che per poter attivare il settore In modalità leggenda dovrete averlo completato In normale Tornati all'ingresso troverete la bandierina per startare l'attività Lungo il settore gli unici nemici Con scudo elementale saranno da vuoto Ed essendo gli spazi abbastanza ampi Ho deciso di usare un impulsi primario con i proiettili Antibarriera, il lanciagranata secondario Verità rivelata e per pesante L'anarchia. Vi avverto però che il lanciagranata Secondario non era la mia prima opzione Avrei infatti preferito un fucile automatico Da vuoto con disorientamento degli scudi Perk che ci permette di stannare Per circa 2-3 secondi i nemici a cui rompiamo Lo scudo e quelli a sé vicini In questo modo avrei potuto fare comodamente i nemici Con scudi da vuoto e allo stesso tempo Avrei avuto un'arma contro i campioni sovraccarichi Non avrei trovato un automatico del genere Però ho ripiegato sul verità rivelata Con granate accecanti Questo perk ha essenzialmente lo stesso effetto Di disorientamento degli scudi Con la differenza che stanna qualunque nemico Che stia guardando il colpo all'esplosione A questo punto non avendo una modifica contro i sovraccarichi È diventato essenziale approfittare Della combo di modifiche dell'artefatto Sovraccarico termico e divoratore di ondata L'una che ci permette di stannare I nemici sovraccarichi con la granata E l'altra che la ricarica ogni volta Che un sovraccarico viene stannato In questo modo possiamo rompere le barriere dei campioni Utilizzando solo la granata E fare danno poi con l'anarchia A questo proposito in molti mi avete chiesto Un'alternativa all'anarchia Dovete considerare che il vantaggio di quest'arma Sta nel fatto che possiamo far danno senza rimanere scoperti agli occhi del nemico Vada se è quindi che una spada non può sostituirla Dato che per usarla dobbiamo andare sotto al nemico in questione Se quindi non avete l'anarchia Una combo che potrebbe sostituirla È quella telesto e uncino della tentazione Con il telesto potete abbattere gli scuvi da vuoto E fare anche danno Mentre la spada ha la particolarità di poter lanciare attacchi a distanza Tuttavia bastandosi questa build su una speciale e una pesante Saranno necessari saccheggiatori e cercatori di munizioni Modifica quindi per le gambe e per il casco Ultima precisazione Al contrario dell'ultima volta Con il ramo alto del martello di sol Ho utilizzato la granata termite Che se esplode precisa nella direzione del sovraccarico Ci assicura più facilmente lo stun A questo punto possiamo andare a vedere nel dettaglio come completare il settore La zona di gioco è un lungo corridoio diviso in stanze dalle barriere decaduti Abbattibili uccidendo i servitori Che tra l'altro sono gli unici nemici con scuro elementale Nella prima stanza vi ritroverete una manciata di stiletti e un servitore Facilmente eliminabili con la primaria Appena abbattuto il campo di forza però sulla destra Sponerà il primo campione barriera Mentre sulla sinistra diversi reietti Coprendovi dal barriera con i container Pulite prima i mob sulla sinistra Per abbattere i campioni disturbati Fate quindi un po' di danno col telesto Con l'anarchia Per poi abbattere le barriere Essendo al sicuro lieto al container Una volta sconfitto il servitore rimarrà solo qualche vandalo A cui star sempre attenti in quanto cecchini Avvicinandovi quindi alla terza stanza Che è in realtà un lungo corridoio Farete esponare una grande ondata di mob Tra cui un campione sovraccarico Se nitregerete vedrete che l'unico a seguirvi sarà proprio il campione E quindi potrete eliminare i disturbati con la combo granata anarchia Il mio consiglio è di tirare la termite abbastanza a distanza dal campione Questo perché quasi sicuramente questo riuscirà a riprendersi per qualche secondo E quindi fare qualche passo in avanti Se avrete calcolato bene le distanze Avrete un margine di errore E quindi riuscirete a ristannarlo Il che dovrebbe bastarvi per buttarlo giù In caso non riusciste invece E rimareste quindi senza granata Iniziate a pulire i vari mob Stando sempre attenti a rimanere coperti dal campione Finché la granata non si sarà ricaricata Ucciso il campione Pulite lontano con gli impulsi Con calma e senza pushare troppo Perché ad un certo punto Dalla porta sulla destra Arriverà un gruppo di stiletti esplosivi Uccisi questi Più avanti arriverà un'altra ondata di mob Tra cui un sovraccarico e un barriera Come prima cosa quindi Cercate di attirare il sovraccarico più indietro Per eliminarlo Per poi passare al resto Nel mio caso Non sono riuscito a stannarlo la seconda volta Quindi ho pulito quei pochi reglietti Sopra la stanzina sulla sinistra E sfruttando la copertura dei tubi Ho battuto il barriera senza grossi problemi Finiti i campioni Dovrete pulire l'ultima ondata Per accedere alla stanza del boss Non l'ho specificato Ma ovviamente nella pulizia Potrete sfruttare le granate accecanti E stannare magari i cecchini più impertinenti Ucciso il servitore E aperta la stanza del boss Vi ritroverete un grande servitore Circondato da piccoli suoi simili Con scuro da vuoto Puliti pochi reglietti all'ingresso Vi consiglio questo container come copertura Mentre fate danno al boss Con qualunque cosa vogliate Vi conviene fare prima questo Perché altrimenti sarete bersagliati Dal suo attacco pesante Che vi sciotterà senza pietà Sconfitto il boss Potreste già andare ad aprire la cassa Per non rischiare però Eliminate prima i servitori Utilizzando il lancio granate E pulite i cecchini Distribuiti sull'anello più esterno dell'arena A questo punto vi basterà aprire la cassa E avrete completato il settore leggenda Probabilmente avrete notato Che questo settore È ben più facile rispetto agli altri Sia per quanto riguarda La scarsità di nemici con scudo elementale E sia perché la zona di gioco È piena di coperture Ovviamente la difficoltà È proporzionale al drop E considerate che i pezzi esotici nuovi Sono solo braccia e caschi Diciamo quindi Che questo settore può essere utile Per farmare un pezzo in particolare O se dovete recuperare qualche vecchia esotica Quindi ragazzi Io spero che il video vi sia stato utile E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Vi attiverò la campanellina Per rimanere sempre aggiornati Sui video in uscita E detto questo Noi ci vediamo alla prossima Ciao Siamo la tua salvezza